Francky si vede male ma va a rire come va a rire? ecco, vedi? che cavolo stai a fare? cosa? porco? ma porco sei tu porco allora cosa dice il tuo standuffolo? di affreno poco come ne hai poco? quanto hai di fortuna? il tuo culo francese no, c'è salute e lavoro quanto c'hai di lavoro? quasi 9 mizzica si trova subito sono andate le donne si è una cazzata diglielo è una cazzata è una cazzata 25 conicoz che sono ucraini quanto valgono queste due monete qua? quanto valgono? non lo so 1500 adesso andiamo a vedere allora i conicoz sono le monete ucraine sono oro ma non pesa ma non pesa ma ecco sono 3,88 29 euro 29 euro e la migliore risposta è la valuta ma questo qua vale 29 euro 3000? allora 3,88 8,88 no no 8,89 godi oddo però essendo una moneta credo che il valore che ti indico io è più accurato delle 1200 di coltunale ritorno a 1200 euro su 1200 allora facciamo 600 euro a testa qua ma qua dice il conicoz poi c'è scritto aspetta 2000 quats e 2009 il 50 conicoz però sono strane questi qua sono ucraine ucraine? si aspetta allora andiamo da Invenga alla dove andiamo? alla 3,14? no e praticamente questi qua siamo andati da valentino oggi no? e abbiamo trovato i conicoz vedi aspetta un po' che non i conicozza i conicozza i conicozza dirlo zio dove siamo andati nella toilette nella toilette del cosoli come si chiama? del cesso si ma era del del vespasiano del vespasiano del vespasiano l'anatrella c'è si a posto delle dell'euro che hanno messo c'era lì il queste qua sono i copocoz con il copo con il copo hai fatto bene a fare l'anatrella non salto ma non salto non le anatrelle non c'hanno il piccolo come no no ce l'hanno a Cava Teppi come ce l'hanno a Cava Teppi vedi le anatrelle li conoscete i conicozza allora sono 3 virgola adesso così ma no ditemi quanto valgono i conicozza eh non rende bene questo qua è più allora 25 e 50 vedi secondo me sono 25 centesimi e 50 centesimi ma non sono 50 centesimi eh andiamo questi qua sono i conicozza sono i conicozza sono ucraino lì vale vale 3 8 8 8 8 9 euro però come valuta penso che a punto dopo il 3 0 dopo il 3 allora sono 1.200 1.200 1.600 allora perchè il 25 va quanto vale il 25 sarà 50 e 1.200 adesso sarà la metà cioè se il 25 adesso ci facciamo vedere adesso non c'è più il metodismo cronico ahahah prima ho fatto una doppietta per comunque se facciamo ci facciamo 600 600 ma fuori si fumare andiamo in Puglia cosa ho fatto se io li ho puliti ma li abbiamo trovati così allora adesso andiamo lì cosa gli dici al cucchiere cosa gli dici cosa gli dici ci abbiamo trovati con i cozz no no sono ucraini al valentino no non ci dire che l'abbiamo trovato al valentino se no dice sembravano rumenine perchè lì ci sono sempre i rumeni sono ucraini sono ucraini poi c'è scritto un'altra cosa aspetta comi mock mock sono pugliesi mock aspetta ma dietro c'è scritto diralo fammi vedere è un h perchè con i cozz con i coc no questo si chiama co 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 conico con un gelato 25 più su suore scendolo a disgraziato perché andiamo di qua a pecaro manneggia la banca popolare vedi quello lì poi ti dice no non vale così e se li fottere essere in grip io ho visto su yahoo yahoo addio è un fail è un fake un fleck vedi che fargli sentire un po ma le adenoidi no le adenoidi dili un po che cosa sono le adenoidi dove vai è di qua sarà di qua ma i coni cozz quando valgono alla fine mille mille e docio mille e docio sto sto quindi con 50 coni cozz ti fai una mille e due docio ma figure se valgono mille e docio sto sto facendo invece sto no perché poi a uno ci viene il dubbio invece è sto capito perché è buttata la sentire l'adenoidi andiamo dall'ucraino vi facciamo sapere poi in quanto valgono i coni cozz si vede io lo devo mettere a tipo selfie ai selfie ci diamo c'è il flash vedi anche il mio fa il flash ce l'ha la torcia la torcia si guarda la telecamera standuffola ti ingrippa un po l'occhio però con la torcia la valuta vedi riscosta intorno a 1200 essendo moneta credo che il valore sono 3 8 8 29 euro essendo moneta credo che il valore che ti indico io è più accurata a 1200 euro di qualcun altro mio dio intorno alle 1200 vi facciamo sapere però basta blocca blocca 530 euro di Rex!